Come promesso torno a parlare della fine di quel che viene comunemente definito mercato tutelato, la cui dicitura, precisa insomma, sarebbe regime di maggior tutela. Coloro che non hanno seguito il video pubblicato da me ieri sull'argomento dal titolo fine del mercato tutelato, beh, chiaramente sarebbe opportuno che lo ascoltassero. Ho già sottolineato nel video pubblicato ieri che la dicitura maggior tutela può trarre in inganno, nel senso che non si è maggiormente tutelati, si tratta semplicemente di un diverso metodo di calcolo del prezzo della componente energia. Ed immediatamente occorre sottolineare un aspetto che, certo, tutti voi conoscete, ma che è bene ricordare. Tutte le voci, e sono diverse queste voci, che compongono la bolletta sia di luce che di gas, che sono diverse dalla componente energia, ebbene non variano fra coloro che sono rimasti nel mercato tutelato e coloro che invece hanno scelto il mercato libero. Quindi le spese per la distribuzione e il trasporto del gas naturale e dell'energia elettrica, le spese per la gestione del contatore, gli oneri di sistema, le non meglio specificate altre partite, oltre naturalmente alle imposte, sono identiche per il mercato tutelato e quello libero. Quindi, tanto per capirci, se fra i due prezzi, cioè del mercato tutelato e del mercato libero, che si riferiscono alla componente energia, se fra questi due prezzi ci fosse una differenza del 10%, beh, l'ammontare complessivo della bolletta non differirà del 10%, ma molto meno, perché, appunto, quella differenza di prezzo del 10% riguarderà solo la componente energia. Ieri avevo già specificato come il prezzo della componente energia, per coloro che sono rimasti nel regime a maggior tutela, viene calcolato da un'autorità amministrativa indipendente, la cosiddetta ARERA, che stabilisce, appunto, il prezzo dell'energia a partire dal cosiddetto prezzo unico nazionale, ossia il prezzo di riferimento dell'energia secondo la Borsa elettrica italiana, ossia il mercato all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Naturalmente anche le aziende del mercato libero decidono i prezzi in base, appunto, al prezzo unico nazionale, ma magari per ottenere così anche nuovi clienti adottano anche politiche commerciali, potremmo definire, insomma, maggiormente aggressive, ecco, come ad esempio bloccare il prezzo per un certo periodo di tempo. Ma in questo video io voglio soffermarmi principalmente sulla polemica politica scatenata sulla fine del mercato tutelato, polemica che veramente ha degli aspetti quasi grotteschi. Come detto, l'istituzione del mercato libero risale al 1999 ed in particolare per iniziativa del ministro dell'industria Pierluigi Bersani, ministro del governo D'Alema. Quindi, insomma, ci aspettiamo che il centro-sinistra sia estremamente favorevole al mercato libero, visto che l'ha istituito. Ma non basta. Chi stabilisce che il regime di maggior tutela debba essere abolito e quindi il mercato debba essere completamente liberalizzato? Lo decide il governo Gentiloni, siamo sempre nel PD, che nel 2017 aveva stabilito che il mercato tutelato doveva avere termine il 30 giugno 2018. L'anno successivo, nel 2018, prorogava la scadenza al 30 giugno 2019. Quindi è sempre il PD che spinge per la fine del mercato tutelato e quindi per un mercato totalmente liberalizzato. Le elezioni del 2018, però, portano al governo il Movimento 5 Stelle, un partito decisamente contrario alla fine del mercato tutelato e quindi non veniva rispettata neppure la scadenza del 2019. E questa fine del mercato tutelato ormai era diventata una barzelletta. Ricordo poi che l'apertura e la completa liberalizzazione del mercato dell'energia era una prescrizione che arrivava dall'Unione Europea e che quindi avremmo dovuto rispettare. Io mi immagino quando i nostri ministri si incontravano in sede comunitaria quali scuse dovevano inventarsi per giustificare ogni anno l'ennesima proroga. Probabilmente in ambito europeo, però, hanno smesso di ridere e si sono scocciati. Quindi, dato che noi periodicamente andiamo a chiedere le rate del PNRR, hanno inserito la fine del mercato tutelato come obiettivo del PNRR. Niente fine del mercato tutelato, niente soldi del PNRR. Quindi il governo Meloni, al quale si può imputare di tutto, ma certamente non gli si può imputare questa farsa delle continue proroghe del mercato tutelato, ebbene non poteva fare altro che far terminare questa buffonata che veramente ci rende ridicoli, e quindi lasciare come ultima scadenza il 30 giugno 2024, senza ulteriori proroghe. Ed ora, dalla farsa, passiamo alla comica finale. La segretaria del PD, Ethel Schlein, ha avuto il coraggio di definire la fine del mercato tutelato, sentite, una specie di tassa Meloni sulle bollette. Ma con che coraggio! Allora, scusi sa, Ethel, provi a chiedere a Bersani se ne sa qualcosa di questa storia del mercato libero. Forse lei, capisco, era troppo piccola quando nel 1999 Pierluigi Bersani, che adesso è tornato nel PD proprio a causa della sua elezione a segretare del partito. Quindi, lui nel 1999 istituiva il mercato libero dell'energia. Provi a chiedere a lui. Certo, poi non era piccola piccola quando il governo Gentiloni fissava la prima data alla quale avrebbe dovuto terminare il mercato tutelato. Stiamo parlando soltanto di sei anni fa. Ed infine, era il governo, il suo partito, quando, recentemente, diciamo, la fine del mercato tutelato è diventato un obiettivo del PNRR. E poi, che dire di Nicola Frattoiani, che ha definito il termine del mercato tutelato, sentite come l'ha definito, una vera e propria rapina sociale. Addirittura. Ma forse il top lo ha raggiunto Salvini, che ha richiesto la centocinquantesima proroga. Ma guardate che, spero lo sappiate, io sono assolutamente contrario all'Unione Europea. Ma un paese serio, se si vede imporre una direttiva che ritiene dannosa per i propri cittadini, non risponde sì signore e poi invece non rispetta gli accordi e proroga la scadenza. Se poi, dopo aver promesso ogni anno che si sarebbe rispettata la scadenza e invece si è prorogata per sei volte, occorre, non so, avere una bella faccia tosta nel richiedere, come dice Salvini, la settima proroga. Un paese serio, lo ripeto. Se si vede richiedere dall'Unione Europea una direttiva che ritiene dannosa, risponde no. Risponde, cara Unione Europea, noi manteniamo in essere il mercato tutelato perché, a nostro avviso, liberalizzare totalmente il mercato energetico danneggia la nostra popolazione. Punto. Non si risponde sì, sì e poi invece si proroga perché così facciamo la figura dei Pulcinella. Così facciamo la figura dei Pulcinella e quindi avrebbero ragione gli altri paesi poi a ritenerci dei qua-quara-quà. È chiaro. Non si risponde, è chiaro.